Per Young che riesce a riceverlo poi, Nikolic in arretramento lungo, pallone però è per Young, si fa l'arrivo a rimbalzo, segna il canestro, subisce il fallo, potente prendere la difesa di Cantuma, legge molto bene la formazione ospite, poi Young in chioda, poi percussione a centro aria, fuori equilibrio il numero 22, Young salta anche di sorpassare Urania con un gioco da tre punti, Young trova chi giocano a due gli statunitensi, l'aria poi torna sui suoi passi, batte di potenza, Pionter riapre nell'angolo per Young, va per le terre e l'upusor milanese in questo terzo periodo, e di nuovo per Young che è caldo, giù il pallone il numero 11, poi serve Young su lui, Poz, Young si fa largo del numero 1, va